Dai Chico Chiesa, vediamo come sono messi intanto, se Chiesa e Quadrado sulla stessa fascia, questo già è un indice, allora io vedo Quadrado e Chiesa sulla stessa linea, dai da zone, metti una qualità che si avvicina all'HD per cortesia, che vedo dei pallini, ok grazie Ma sì, ma sì, ma sì Paolo, Dio santo Bentancur, bisogna passarlo quel pallone, Dio Bonino in verticale, ma perché non sai fare i passaggi, era perfetta dentro per Morata in verticale davanti alla porta Sì, bello lì per Dybala, bellissima, sì, sì, Dybala a Morata deve andare in area, bravo Locatelli, Dio Bon Bravo Locca Che bello, che bella azione Yes Che bella azione, yes Attaccarla quella porta Sbombardare su quella porta Yeah Paolino, Dybala Paolino El Diez Di Cap Che bravo Locatelli ragazzi Ha aperto su Alexandro e poi ha appoggiato benissimo dopo aver sbagliato il tiro Che bravo Locatelli ragazzi Che bravo Locatelli e che bravo Dybala Doppio regista eh questo Quel famoso video sui tre registi Questo è il doppio Questo è un gol tecnicamente impeccabile L'appoggio perfetto, il tiro perfetto Destro, sinistro a seconda del loro piede forte Gol bellissimo a livello tecnico questo eh Matte Attenzione Attenzione No Il 2-0 di Chiesa fuori di un millimetro No Attenzione Morata, Morata in aria Morata, 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 Morata Audero No Morata l'hai sbagliata L'hai sbagliata Alvaro questa Due occasioni per il 2-0 In due secondi mangiate tutte e due Figa Bentancur ma chi hai visto lì? Oh chi c'era lì? Da servire Cos'è stato sto passaggio? Perché ho venuto a contare Dybala è qua Morata è lì Chiesa è lì Chi c'è? Nessuno C'era nessuno No si è fatto male Dybala Piange Dybala piange Dybala piange Sia lui ma soprattutto L'ha chiamato Bernardeschi Questo cambio Parlando con Allegri Quindi si sta preparando Ma cosa ha fatto scusami? Ma cosa ha fatto scuse? Ma cosa ha fatto? Paolo No si è strappato Si è strappato E lì è un problema muscolare È un discorso muscolare Se questa slide è esatta Io penso che si sia fatto male qua Tra il muscolo semitentinoso E il muscolo del bicipite femorale Io mi sono strappato Sia a destra che a sinistra E vi assicuro che ci vuole tanto Per guarire Quindi penso che sia quello il problema Eh se ha sentito solo pizzicare Si ferma Però sai se piangi Cioè Il fatto di come è avvenuto Come è uscito E il pianto A me dà l'idea Che lui Sia consapevole del fatto che Il muscolo gli ammollati E quindi sarà fermo per tanto Ah il cazzo culo Il primo stop Sempre sbagli Largo Sì ma diamolo bene Sto pallone Largo ancora quadrato Se vuoi eh Eh Rigore Rigore No Volucci Volucci Con la Germania Fece gol in nazionale Volucci Su rigore Con la Germania L'europeo L'europeo di quattro anni fa Mi ricordo bene Sciacquatevela Il 2 a 0 Leonardo Bolucci Ale Con la fascia da capitano al braccio 2 a 0 Juve 2 a 0 Juve Yes Continuare Continuare Oh Eccolo Mattia Chiera E Perin Che si incazza E la para E vuoi che non lo prendiamo un gol Vuoi che non lo prendiamo un gol Vuoi che non lo prendiamo un gol Almeno un gol Vuoi che non lo prendiamo almeno un gol Almeno un gol Non lo prendiamo almeno un gol Possibile non prendere almeno un gol A Juventus E' impossibile vero? Troppo tardi Lattini Toselli di Locatelli Grazie Grazie Loca Lattini Toselli Che forte Locatelli Ragazzi Che forte Locatelli Ragazzi Che forte Locatelli Aveva fatto anche l'assist per Chiesa Non si è concretizzato Poi qua bravo Kuluseschi A dare il pallone A porta vuota per il Loca Gol e assist per Loca Gol e assist E' lunga E' lunga E' lunga Niente da dire Niente da dire Quadrado Occhio Diagonale Fatta bene per il momento Bravi E la propone Ancora Cadreva Pulisce la Juve 3-2 Per la Juventus Torna Nuovamente In partita La Zampa Con Antonio Cadreva Questa è una grande azione Della Zamp Perché Ruba Pada Poi lo costruisce bene Con questo insedimento Profondo Cross dietro Quadrado Che perde quel pallone Di merda Quadrado Che perde quel pallone Di merda Di merda Proprio un pallone Di merda Quello lì perso Pallone di merda 6 minuti Più recupero Li teniamo Senza prendere golo Facendolo un altro E' certo Che ha incassato Nero Allegri Quadrado Ha perso quel pallone Abbiamo un palla Noi ci siamo fatti gol Ancora Avevamo palla noi Porca puttana Noi ce l'avevamo la palla Noi Eh c'hai ragione Allegri Perché non vanno vicino Alla bandierina A prendere l'angolo A perdere tempo Che cazzo facciamo i tacchi Sul 3 a 2 al novantesimo I tacchi facciamo Esperienza Questo è quello che dice Un po' di intelligenza Un po' di intelligenza calcistica Sono quelle cose Che ti fanno vincere le partite Queste qua Porca puttana Ken se non vai a prendere Fallo con la bandierina Mi arrabbio Ken Allora Allora Mancano 30 secondi Vogliamo fare i dribbling I tacchi È finita Abbiamo vinto Abbiamo vinto